Noi abbiamo fatto questo tentativo appunto di fare un po' il punto della situazione su una tematica che è complessa, variegata, ricca di spunti. Vi abbiamo fornito il nostro punto di vista dopo avervelo chiesto, proprio per non influenzarvi. Quindi credo che siano emersi diversi punti. Adesso non voglio annoiarvi, ma insomma se uno dovesse fare proprio un'estrema sintesi. Abbiamo una crescente consapevolezza all'interno delle aziende e abbiamo diverse modalità con le quali le aziende stanno affrontando i temi. Le competenze ci sono, ma devono essere sicuramente rafforzate. La governance è prevalentemente in un comitato di sostenibilità e capiamo che all'inizio di un percorso, questo è quello che abbiamo notato, in altri mercati dove magari la sostenibilità è una fase più avanzata, magari si ritiene che non sia necessario più il comitato, ma invece in Italia probabilmente questo è preferibile. sugli strumenti ci sembra di capire che c'è un po' il rischio di autoreferenzialità. La dico male, ma è così, insomma, perché se io mi baso esclusivamente sulle informazioni che vengono dall'interno, forse questo rischio c'è e il nostro tentativo oggi di farvi parlare, di farvi confrontare, va proprio in questo senso. Sui regolamenti dei comitati abbiamo visto che alcune tematiche sono comuni, altre no, e quindi lì ci sarebbe da ipotizzare come estendere, chi lo fa? Se alcuni comitati in alcuni fuzzimi hanno ritenuto di occuparsi anche di alcuni temi, forse la domanda da farsi è, ma lo dobbiamo fare anche noi? People. Mi sembra che ci sia una grande concentrazione sulle tematiche di ENI, ma sostanzialmente sulla tematica di gender balance e sulla sicurezza del lavoro. Human capital management è certamente molto di più e quindi forse anche lì c'è un po' da fare. Quindi sono spunti di riflessione, niente di più. Ci sono due persone che si sono prenotate e quindi do volentieri loro la parola. Mi sembra che la prima sia Fabiola Mascardi, che ringraziamo. Fabiola, a te. Mi sentite? Sì. Perfetto, benissimo, perché non sapevo come fare a togliere il muto. Allora, beh, innanzitutto grazie veramente, i vostri incontri sono sempre molto interessanti, anche questo sistema dell'interazione tra le nostre risposte e i vostri studi è stato veramente molto efficace ed interessante. In relazione a questo volevo fare un paio di osservazioni. Innanzitutto sono rimasta, dunque come alcuni di voi sanno, io sono stata sia presidente dei comitati sostenibilità, sia il presidente dei comitati remunerazioni e ho avuto un interscambio tra questi, sia come membro che come presidente, tra questi comitati abbastanza vivo, diciamo. Mi ha stupito moltissimo vedere che c'è stata registrata una bassa interazione tra i comitati remunerazioni e i comitati di sostenibilità sui KPI. In realtà io questo l'ho sempre chiesto e l'ho sempre ottenuto ed è stata una delle mie richieste principali perché se non si lavora sui KPI per la sostenibilità il fallimento è quasi certo o se non vogliamo dire il fallimento la non crescita all'interno di una società. Quindi mi stupisce molto vedere che ancora la percentuale è così bassa come quella che voi ci avete mostrato. Poi un'altra cosa che volevo dirvi piuttosto che come domanda, come osservazione, tante delle cose che sono venute fuori dal vostro survey non registrano un elemento fondamentale. Si è parlato di preparazione dei consiglieri o strumenti che sono a disposizione dei comitati, però secondo me un elemento veramente fondamentale è la preparazione del presidente del comitato sostenibilità. proprio perché che deve essere una preparazione personale e non può formarsi esclusivamente all'interno dei consigli ma deve essere per motivi personali, di interesse personale, di approfondimento. perché se non c'è uno stimolo da parte del presidente nei confronti dei colleghi e nei confronti della struttura risulta molto difficile poi per esempio ottenere quegli strumenti che giustamente voi avete messo in evidenza non ci sono ancora così diffusi ed efficaci ma che poi devono essere dati in mano a qualcuno che li sa usare e quindi se il presidente non sa quale scegliere, non sa chiedergli e non li sa usare è inutile dargli e quindi rischiamo di fare degli investimenti che poi non portano ad un'effettiva utilizzazione. invece la mia domanda è un po' polemica. Ho visto che dappertutto, polemica non nei vostri confronti ma in generale, ho visto che dappertutto anche negli UK, negli Stati Uniti eccetera c'è sempre diversity ed inclusion come KPI sociale. e allora mi chiedo, è perché dappertutto ce n'è così tanto bisogno oppure è perché è quello più facile da imbastire, da rendere un po' controllabile dal punto di vista della quantità ma poi rimane sempre con dei numeri piuttosto bassi e quindi possiamo lasciarlo lì ad eternum quasi perché in qualche modo ci copriamo con la foglia di fico dal diversity e inclusion e ne abbiamo almeno uno però poi non si va molto in avanti, diciamo con grande speditezza. Mi fermo qui se non lascio spazio ai colleghi. Grazie comunque. Grazie Fabiola, io lascerei la parola a Cinzia di un'Avisio e poi magari raccogliamo un po' di domande e poi rispondiamo insieme. Grazie Fabiola, ci sentite? Forte chiaro. Benissimo, scusate perché mi è partito. Allora io volevo fare un'osservazione. Chiaramente quando si parla di sostenibilità bisogna tener conto che voglio dire siamo in un mondo variegato dove si va a velocità diverse quindi indubbiamente bisogna parlare di KPI di sostenibilità, di comitati di sostenibilità e quant'altro perché se si deve muovere su questo bisogna cominciare da qualche parte. Io però credo una cosa. Sempre di più oggi siamo un passo avanti. Oggi grazie anche a tutta una serie di cose stiamo parlando di avere dei piani industriali integrati. Quindi quello che io chiedo e l'osservazione che io faccio mi va benissimo però e questo l'ho fatto anche parlando con dei fondi. Cioè perché continuiamo a parlare sempre di KPI, ESG, tutto questo mondo separato, così differenziato quando in realtà noi dovremmo interrogarci sulla capacità delle aziende di incominciare a esibire dei KPI che sono effettivamente dove la sostenibilità è integrata nel business. Sara sa perché abbiamo avuto modo di confrontarci diverse volte cioè che io ho una battaglia come presidente del comitato di remunerazioni che mettere dei KPI sulla sostenibilità ho fatto da sei anni ma io ormai lo trovo superato questo e quello che dico voglio parlare dei KPI dove? Poi lo traduco ai fondi e ai proxy dicendo guardate che stiamo parlando di KPI integrati non che la sostenibilità non ci sia però trovo che sia veramente molto importante perché altrimenti da una parte facciamo pressione per chi si integri e dall'altra continuiamo nei criteri diciamo di incentivazione e di misurazione a tenerla separata. Di stesso discorso lo vedo per il comitato credo che il comitato sostenibilità sia molto importante laddove devi fare un boost di certe cose ma dopodiché proprio perché la sostenibilità è trasversale e ripeto per chi mi conosce poi lo sa come questa cosa è implementata beh questo deve essere dentro e deve essere materia di tutti i comitati no? Quindi a prescindere quindi nei rischi si parla di temi diciamo della sostenibilità legato ai rischi così come i rischi del business tutto insieme nella remunerazione piuttosto che nel resto. Ecco questo credo che ci sia un po' questo disallineamento tra le società che stanno sempre di più facendo dei piani sforzandosi di integrarla e noi che si continuo a parlare di questo discorso. Volevo fare ancora un'ultima osservazione e mi taccio riguardo alla Fabia che giustamente ha sollevato il tema della diversity equity inclusion che a me fa venire sempre un po' di orticaria ogni volta. Credo che sia un modo molto così gli americani vanno per slogan e noi spesso andiamo dietro agli americani in realtà sono tre temi completamente diversi con una portata diversa allora diversity va bene signori miei d'accordo. Equity già si apre tutto un altro film inclusion è una roba difficilissima per le aziende italiane creare veramente dei meccanismi veri di inclusione quindi anche questo va bene ne parliamo neppure ma mi fa un po' ridere quando vediamo questi KPI sulla diversity equity inclusion un calverone dove ci mettiamo tutto e poi magari andiamo a misurare se abbiamo assunto due donne. Il tema vero dovrebbe essere un tema di competenze forse se sulla parte di KPI ci concentrassimo più su questo superiamo anche il tema della DEI. Scusate qua mi fermo era solo delle osservazioni che volevo condividere con voi grazie. Grazie dottoressa veramente molto interessante. Spunti poi ci facciamo una riflessione insieme. Laura Cavatorta si era prenotata a parlare quindi magari rilasciamo la parola. Mi sentite? Sì Laura. Perfetto. Sì intanto grazie per questa occasione di incontro e di ragionamenti sul Comitato Sostenibilità. Io volevo dare un contributo più che altro su quello che potrebbe essere un po' un'azione prospettica anche di questo tipo di meeting. Quindi immaginando cosa può servire a chi si collega sul tema sostenibilità proprio prendendo come base le considerazioni che sono emerse sia dall'instant survey ma soprattutto dallo studio. E cioè che poi le competenze ISG non sono così diffuse come magari ci piacerebbe che sono competenze anche articolate diverse, complesse e spesso c'è da augurarsi che risiedano o siano comunque possedute dal presidente o dalla presidente del Comitato che possa fungere. Io sono molto d'accordo sul fatto che spesso il presidente deve avere una sua formazione personale e una sua capacità di restare aggiornato costantemente in maniera tale da poter fare challenge ai colleghi di CDA e alle strutture. Quindi io immagino che un po' sulla falsa riga di quello che accade quando ci incontriamo sui comitati nomine e remunerazione dove è molto utile capire cosa sta succedendo in Italia e anche nel mercato europeo oppure oltreoceano. Ed è utile anche vedere laddove ci sono degli interventi normativi come questi andranno a toccarci. Ecco io credo che da questo punto di vista la sostenibilità abbia negli ultimi tempi veramente generato una tale quantità di indirizzi, regolamenti, direttive, intenzioni che non sono ancora diciamo in dirittura d'arrivo ma sono in gestazione e alcune di queste hanno dentro delle richieste per certi versi rivoluzionari. Allora io credo che per la platea dei consiglieri d'amministrazione avere un luogo che non sia la struttura aziendale che ti racconta come la vedono loro la normativa poi magari ti dicono questi noi non siamo obbligati quindi sorvoliamo la vedremo poi. E no invece uno può voler dire sì è vero che io non sarò interessato perché magari non appartengo a quella certa industria sensibile oppure non ho ancora quel dimensionamento quel fatturato però fammi vedere perché l'Europa sta cominciando a chiedere di questo. Cosa posso fare io anche se in via volontaria e questo potrebbe essere una cosa gradita ai miei investitori anche se mi costa fatica farlo? Quindi ecco io credo che vedere quali sono i trend emergenti e come vengono affrontate dalle diverse aziende che siano del Fuzio che siano invece non so un mid cap o uno small cap no? Capire anche quante risorse investono per fare questo tipo di percorso. Ecco io credo che questo sia molto utile e vi dico anche in modo un po' egoistico. Io come presidente del comitato ISG o sostenibilità in più di un'azienda in diverse circostanze sono riuscita a sollecitare e ad ottenere anche ascolto nel tempo rimarcando come nei miei workshop, nei miei approfondimenti, nei miei studi, nelle mie occasioni di confronto assolutamente emergeva un certo trend, un certo interesse. L'ho fatto quando ho cominciato a dire ragioniamo sul company ratio e mi dicevano tutti no ma quella è una cosa che fanno gli americani, noi non se ne parla. Oppure quando cominciavamo a discutere del fatto che presto non sarebbe stato più sufficiente parlare solo di emissioni ma bisognava cercare qualcos'altro che fosse soprattutto per esempio nel social e quindi poi si sono aperte tutte. Ecco però andando indietro nel tempo a me è stato molto utile vedere cosa succedeva nel panorama estero quali erano le tendenze perché sulla base di queste informazioni andando poi a approfondirle ulteriormente ho fatto il mio challenge all'interno e continuando insistendo in realtà l'evoluzione poi avviene anche all'interno delle aziende quindi è molto importante essere consapevoli anche di quello che appunto fanno altri pur se la tua azienda magari è in una condizione un po' diversa e non ne ha la necessità di farlo subito o insomma nell'immediato. Ecco quindi io con questo poi sono d'accordo con alcune cose che hanno detto le colleghe che mi hanno preceduta ma ci tenevo a dare questa sollecitazione su quello che potremmo aspettarci in futuro di poter ragionare insieme e imparare reciprocamente da quelle che sono le nuove tendenze penso a tutto quello che oggi riguarda il ripristino della natura, le nuove quattro dimensioni della tassonomia che sono uscite, tutte le nuove appunto dalla task force sul climate alla task force su nature e le nuove piattaforme sulla biodiversità. Ecco su tutta questa roba qui c'è la maggior parte dei consigli al di là dei pochi che sono appassionati di sostenibilità non sanno assolutamente nulla questa è la mia sensazione e la mia sensazione insomma non è tanto sensazione è quello che ho toccato con mano. Ecco grazie Grazie. Sì sì grazie grazie Laura ti rispondo in una battuta mi fa piacere che cogli il bisogno che abbiamo colto anche noi di fare, organizzare questo momento di confronto tra di noi e tra di voi su questo tema quindi insomma lo spirito era proprio quello, cioè di ricreare un momento dove poter fare dei ragionamenti come questi e andremo avanti assolutamente. Allora c'è poco tempo, volevo fare un intervento più complesso però provo a andare per punti. Allora sostenibilità io lo dico spesso la trovo nel codice italiano si dice la diligenza del buon padre di famiglia a me piaceva molto questa non perché ho fatto studi economici che effettivamente dava in questa parola il fare buona impresa e quindi secondo me c'è di fondo un primo ragionamento che cosa vuol dire fare buona impresa e paradossalmente questo filone se vi ricordate nasce proprio in contrapposizione con invece il motto dello stesso signore che adesso dice che la sostenibilità è fondamentale che era la stessa azienda che diceva cash is king qualche anno fa e quindi che spingeva in un'attenzione un orientamento spasmodico sul breve termine e sugli earnings continuamente costanti a prescindere come si sosteneva quindi il ragionamento del concetto della sostenibilità secondo me riporta al centro un pensiero strategico sistemico di medio-lungo periodo quindi il primo ragionamento che io vedo e lo dite anche voi è che ci deve essere proprio una prima domanda ma cosa vuol dire per la mia azienda sostenibilità? cioè qual è il mio business sostenibile? qual è il mio mercato dei clienti? cosa chiedono i miei clienti? come i miei prodotti devono evolversi? come le mie polisi aziendali si devono evolvere? cioè che cosa vuol dire per me essere sostenibile? ecco questo secondo il mio modesto punto di vista è una seconda, una terza, una quarta domanda non è dentro il concetto principale strategico di crescita e questo bisogna molto ringraziare secondo me i fondi in particolare perché hanno spinto a un concetto di crescita sostenibile e hanno spinto alcuni ragionamenti sulla crescita sostenibile quindi secondo me il primo punto è qual è il ruolo del Comitato di Sostenibilità come input del piano strategico visto che poi siete tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che poi approvate un piano strategico, approvate un budget cioè approvate le scelte di investimento e questa è una caratteristica unica che dipende da azienda ad azienda non c'è una ricetta per tutti questo secondo me è un primo ragionamento e tutto quello che è interno cioè che attiene all'impresa insomma deve essere letto proprio in questa logica cioè che cosa vuol dire che cambiamenti io devo portare prima di tutto che cosa vuol dire poi che cambiamenti devo portare nella mia organizzazione per essere sostenibile da qui si aprono due o tre derivate secondo me cosa stanno facendo gli altri gli altri della mia industria che cosa si chiedono i miei clienti perché poi alla fine la sostenibilità prima di tutto me la danno i clienti che cosa si aspettano i miei dipendenti che è un altro fattore essenziale per essere sostenibili e che cosa si attendono i mercati ora magari vi frequento poco ma io questo quattro tipo di domande in consiglio e amministrazione non le ho viste cioè si danno per assodato e quindi si fa un ragionamento diciamo derivato la sostenibilità vuol dire la DNA la sostenibilità vuol dire ridurre le emissioni la sostenibilità vuol dire sostenere il territorio sì certo vuol dire anche questo ma forse vi ha fatto prima un ragionamento che cosa vuol dire per il mio business essere sostenibile e qua c'è molto di management quindi c'è molto del vostro impulso e stimolo nel stimolare chi deve fare questa riflessione ve la deve portare come consiglio di amministrazione nel riflettere in questa logica alcune industrie come dice giustamente Sara sono più esposte all'altra la transizione energetica adesso mi viene in mente il motore elettrico verso il motore a scoppio mi viene in mente appunto le energie alternative rispetto alle energie tradizionali da combustione fossile il digitale verso i mondi analogici quindi alcune sono alcune devi proprio rifletterci questo è un primo spunto il secondo spunto proprio per questo servono delle competenze quindi le competenze lo dite voi lo diciamo noi in generale nei CDA le competenze dovrebbero essere un po' più strutturate io qui non voglio lanciare la nostra solida campagna ma questo modello italiano che ci sia il mandato triennale tutti quanti scadono al triennio e non ci sia un CDA rolling che possa via via svolgere un meccanismo per cui c'è una scadenza e poi via via vengono rinominati i membri anche con le competenze adeguate di affrontare i cicli potrebbe essere per esempio una soluzione di governance molto molto azzeccata quindi c'è un grossissimo tema di competenze e non è hai messo nella sostenibilità perché le competenze mancano su altri temi purtroppo in alcuni dei nostri dei nostri consigli di amministrazione non che non ci siano persone competenti non voglio che mi passa questo messaggio ci sono persone competenti magari eccellenti avvocati o professori ma magari non sono competenti o eccellenti manager ma non sono competenti in quel settore dell'industria poi c'è un altro elemento che volevo mettermi a fattore comune è che credo che ci sia un tema anche di concretezza cioè piuttosto che abbracciare un modello generale ma andare a definire magari su un mandato che cosa vuol dire per la mia azienda e che come mi devo andare a misurare che tipo di obiettivi mi devo dare un piano abbastanza definito strutturato non si può abbracciare tutto probabilmente dentro la definizione di sostenibilità ci sono tanti sottocapitoli e uno potrebbe immaginare di fare un programma e di magari prendere alcuni di questi sottocapitoli declinarli in obiettivi e qui sono d'accordo con l'intervento che è stato fatto prima della persona che poi è uscita la collega alcuni sono i band del business cioè non è che bisogna metterli come un KPI dell'amministratore legato dovrebbero essere dentro il sistema di business qualcuno di noi di voi un po' che pede di bianchi si ricorda la balance core card ve la ricordate quando si parla della balance core card che era il modello di indicatori bilanciati la sostenibilità un po' non ha riportato quel modello indicatori bilanciati in una conduzione di impresa che vi ricordate le famose quattro prospettive alla balance core card venivano viste la dimensione cliente customer la dimensione innovation interna people la dimensione processi c'era quindi ha rimesso un'attenzione sulla componente non puramente finanziaria ma anzi sulla componente non finanziaria quindi io qui direi cerchiamo di provare ad essere un po' concreti e quindi vedendo il tempo che sta scadendo ci sarebbero tanti altri appunti però proviamo Enzo prendo il tuo spunto la prossima sessione proviamo ad essere concreti proviamo a noi a fare che questo sia un momento di concretezza allora uno spirito uno spunto di concretezza ne parlavamo prima con Sara potrebbe essere quello di dire ok siccome tutto parte dagli investitori che hanno intercettato probabilmente un bisogno stanno spingendo su un bisogno perché non indaghiamo che cosa vuol dire essere quotati a indici o confrontarsi con indici di sostenibilità che cosa stanno guardando gli investitori cosa valutano cosa considerano valido quali sono le aziende più performanti rispetto agli altri perché scelgo un indice mi guoto su un indice piuttosto che un altro mi confronto uso uno piuttosto che un altro cioè proviamo ad andare a prendere questo elemento di concretezza iniziale e l'altro secondo me è molto interessante io lo andrei a guardare quanto siano integrati i piani quello è il primo punto che avevamo detto cioè quanto effettivamente è un qualcosa che viene aggiunto per raccontare uno storytelling e quanto invece sul mio piano strategico io ho individuato la sostenibilità come un elemento di chiave di guida per la crescita della mia organizzazione e come l'ho declinato proviamo ad andare a vedere magari potrebbe essere interessante lo spunto capire quante aziende effettivamente fanno dei piani integrati quante aziende invece aggiungono sul piano strategico di crescita di sviluppo di ritorno sull'azionista una serie una serie di variabili e come e da ultimo mi farebbe piacere se fosse al vostro posso ascoltare dei casi ci sono aziende che hanno e quindi magari c'è qualcuno di voi che si vuole prenotare ha sviscerato una, due o tre componente della dimensione SG o ci presenta delle esperienze potrebbe essere questo un consenso dove ognuno di noi no racconta delle esperienze perché no potrebbe potrebbe essere essere valido magari aiutiamo noi a selezionare una di alcuni in modo tale che ci come dire ci ci fertilizziamo reciprocamente no con gli spunti che ci sono concludo dicendo benchmarking esterno è fondamentale perché insomma io vedo questo comitato più debole no rispetto ad altri meno strutturato più in crescita senza budget in alcuni casi quindi forse sarebbe anche il caso che chieda budget e che chieda il coinvolgimento di funzioni aziendali che siano pesanti però perché le funzioni aziendali pesanti non sono il capo della sostenibilità che viene messo lì no a staff tanto per dire che ho fatto una funzione che si occupa di sostenibilità no ci vorrebbe magari qualche business leader che prende in mano i progetti ci vorrebbe il CFO coinvolto ci vorrebbe cosa che viene coinvolto su alcune tematiche di remunerazione e quindi forse anche questo potrebbe essere uno spunto vostro di riflessione no per lavorare se Enzo sei d'accordo io seguirei questo filone per le prossime puntate a me sembra molto convincente perché mi sembra anche molto coerente con quello che è emerso oggi quindi gli investitori siccome abbiamo detto che la sostenibilità è molto trainata da chi ci guarda ci valuta poi alla fine compra le azioni qui Luca guardiamo te prossimo incontro avrai un ruolo importante nel raccontarci questo poi mi sembra ottimo spunto siccome abbiamo detto ne parlava anche Laura ne parlava la donna Lisio ma insomma questa integrazione strategie sostenibilità penso che si possa fare un buon lavoro andando a vederci qualche piano industriale magari anche se qualcuno di voi intorno a questo tavolo virtuale è disponibile c'è qualche spunto da darci ovviamente ben volentieri e poi da ultimo c'è il tema del casi di successo bench marcasia interni sia organizzativi come sono stati affrontati anche qui raccogliamo candidature vostre dei partecipanti che ci hanno magari voglia e tempo di c'era un commento di Patrizia interessante Gian Gualano che diceva che è collegato al ragionamento che facevo Patrizia sul piano è chiaro che tutto è collegato un po' al purpose dell'organizzazione quindi ho un purpose di lungo periodo e chiaramente poi defino questo purpose in un piano strategico che ha necessariamente le definizioni dall'altro lato insomma tutto questo deve produrre poi crescita crescita benessere ricchezza perché insomma non ci dimentichiamo cioè le aziende sostenibili che non fanno utili io non le conosco e allora prima di salutare e ringraziare tutti se ci sono altri temi argomenti aspetti che vorreste che in qualche modo fossero approfonditi in queste una delle prossime sessioni del comitato se ce li segnalate ovviamente sarà nostra cura a ragionarci sopra e poi darvi un riscontro mi dicono che c'è un'ulteriore domanda Lorenza Morandini vuole l'ottoressa vuole prendere la parola eccola è in muto dottoressa non so se sta parlando ma noi non la sentiamo mi sentite adesso? adesso sì grazie sì sì allora secondo me l'integrazione allora io faccio parte di aziende che hanno controllo familiare per lo più quattro aziende totale sono 10-12 miliardi di fattura tra l'una e l'altra faccio parte di tutti i comitati di SG e anche il comitato di remunerazione in un caso e parti correlate in più casi allora la cosa importante quando e sono tutte multinazionali che si confrontano su mercati internazionali ok da Amplifon a Danieli a SIT e a Esprinet quindi ipercompetitivi dove la competizione viene da nord a est da ovest e da sud talvolta ecco quindi siccome la domanda più che mi piacerebbe mettere sul tavolo per le proprie volte non è tanto strategia SG ma ed SG ma è la competitività è la parola che un po' ho sentito mancare tra le righe Marco lo citava però per me è critico cioè per me è importante avere una visione ESG che porti le nostre aziende a essere più competitive magari è premium price magari è supply chain più resiliente più vicina near shoring non è adesso il momento siamo anche andati lunghi però per me la parola chiave è competitività ESG mi sembra veramente un ottimo spunto perché in effetti se sostenibilità è solo un costo dottoressa siamo d'accordo tutti come diceva pure Marco prima insomma se non produciamo redditi è difficile sostenere siccome siamo andati un po' lunghi sette minuti di sforamento io veramente ringrazio tutti quanti a nome del numeroso team del Mercer e Marsh grazie grazie per la partecipazione tutti i contributi che volete darci i mail che volete mandarci sono assolutamente ben ben ricevuti e quindi grazie a tutti ancora e buona serata grazie a tutti